Una pianta a fioritura tipicamente estiva è questa che si chiama erba maresina in Veneto ed è un Tanacetum partenium. In alcuni libri potete trovare anche questa pianta erbacea con il nome precedente, il basionimo, Matricaria partenium. Il nome esatto sarebbe Tanacetum partenium, viene chiamata spesso appunto oltre a erba maresina anche erba madre oppure erba amara. In Veneto è molto molto utilizzata soprattutto in cucina e ci fanno anche delle feste bellissime, come ad esempio questa festa a Valdagno in cui si possono mangiare le frittelle con l'erba maresina che sono considerate proprio una specialità veneta. Però è ottima anche da mettere in tantissimi dolci o proprio utilizzare in cucina. Allora andiamo a vedere quali sono le sue caratteristiche. È una pianta perenne della famiglia delle asteracea che si sviluppa in altezza, diventa alta tranquillamente 80 centimetri. Il fusto è eretto, è glabro e ha delle striature longitudinali. Queste sono le foglie, vado a prenderle, foglie che si dispongono in maniera alterna sul fusto. Sono foglie picciolate e sono bipennato partite perché vedete che comunque non arrivano completamente al racchide centrale ma rimane sempre una parte di foglia. Sono formati poi da questi segmenti che hanno questi denti che sono arrotondati, che sono ottusi. Faccia anteriore e faccia posteriore della foglia. Allora, i fiori sono proprio dei capolini vistosi che hanno un diametro di circa un centimetro. E vi faccio vedere anche l'involucro, le bratte, se riesco, eccole qua. Vedete? Queste sono le bratte. Hanno esternamente, quelli bianchi, sono fiori ligulati. Internamente il disco invece è formato da fiori tubulosi. E i fiori si raccolgono in questo corimbo piuttosto lasso, vedete? Allora, l'erba maresina, dicevo, oltre a poter essere utilizzata in cucina, ha anche altri usi. Allora, attenzione che ha un odore molto molto forte di piretro e non a tutti piace. C'è chi la definisce con un odore di gange. Non faccio nomi, dato che mi segue. Però ecco, una volta ho provato a fare una torta, mi ha detto, buona questa torta che sa di gange. Ecco, per dire, quindi non a tutti piace questo odore molto forte. Si può utilizzare un pochettino come si utilizzerebbe la camomilla. Aspetta, la fermo. Ecco, cerco di fermarla. Ecco, si può utilizzare, dicevo, un po' come si utilizza la camomilla. Quindi, va a rilassare la muscolatura liscia. Si poteva utilizzare, si utilizzava durante le crisi convulsive. Si utilizzava anche tantissimo in caso di raffreddore o di catarro. Si facevano in particolar modo i suffumigi. E anche adesso, volendo, se avete delle cose lievi che non necessitano di antibiotico, potete provare appunto a fare i suffumigi. Però, quello per cui è molto famosa l'erba maresina, il Tanacetum partenium, è per il mal di testa. Perché ha queste sostanze che alleviano e prevengono proprio il mal di testa. Quindi, è utilissima in tintura madre o anche in infuso, proprio per quelle persone che soffrono di mal di testa. Questa è proprio, ecco. Una volta anche c'era il folclore, quindi i riferimenti folcloristici dicevano che gli uomini, se volevano trovare facilmente la fidanzata, dovevano tenere un po' di erba maresina in tasca. E per questo motivo, uno dei nomi dell'erba maresina è proprio anche bottone dello scapolo, proprio perché, secondo questa diceria, appunto, faceva trovare la fidanzata velocemente a chi la teneva in tasca. Eccola qua l'erba maresina. E se la trovate, provate a utilizzarla, ad assaggiarla e fatemi sapere.